Nuovi corsi, nuovi talenti, nuovi coach, nuove dinamiche. The Coach è il talent che mette in primo piano la figura del coach. Coreografi, vocal coach, insegnanti. Vediamo cosa ci riserva la quarta edizione. Andiamo a scoprire coach che quest'anno hanno deciso di mettersi in gioco. Andiamo a conoscere artisti e talenti e le loro storie. Siete pronti per questa nuova avventura? The Coach, leader di grandi talenti. Domani alle 19, 7 gold. Brembo, presenta.